Buon pomeriggio da Gabriele Giustiniani e Marta Carissimi e benvenuti nel Champions League, benvenuti ad Eindhoven, la città della luce si accende per la finale, è il momento in cui i sogni danno forma al mondo, è il momento dei pensieri, delle gambe che tremano, degli sguardi persi nel vuoto, delle pacche sulle spalle, degli abbracci, della paura, della tensione che sale, dell'adrenalina che scoppia, dello stadio che trema, della coppa che ti guarda, benvenuti alla ventiduesima finale della Women's Champions League. Pallo, ancora Hansen, scarico fuori, conclusioni, centrale, davanti di Pagli, Pagliuxer, ciao, davanti di Piano. Rientro su Paglior, centralmente, si propone Maruola, palla questa, conclusione, al primo tiro in porta, fa centro il Wolfsburg, dopo tre minuti è avanti la squadra tedesca, tutto per cambiare, con Pagliuxer, un gol molto simile a quello dello scorso anno, realizzato da Harry, con il Leone, 1-0 per il Wolfsburg. 12 sul cronometro, corner per il Barcellona, Mappi-Leon cerca ancora una volta il cuore dell'administra, ma sul secondo palo, un'occasione gigante per il Barcellona. Sponda, Mappi-Leon è lì a sinistra, palla dentro! Caroline Hansen ha tanto così dal gol dell'ex dell'1-1. Pronto a ripartire, invece, il Wolfsburg, che ha già ribaltato il fronte, c'è un contatto, metà campo si gioca, Pagliuxer, zona secondo palo! Pagliuxer, bomba puntuale per il 2-0, due ganci fortissimi del Wolfsburg, 0-2 del gol. Bronze, Valet, si infila con l'esterno, palla di ritorno, Bronze al limite, ancora palla dentro per Salma! Frunze, la palla resta lì e la ritrova nel portiere del Wolfsburg, che ha abbassato la spalla! Aperta Rolfo, servita sulla corsa, può puntare Jonsgottir, va a cercare il cross, Paralluelo, colbetto, mette giù, Bommati, scarico, Mariona! Frunze, Caroline Hansen, dribbling, fa tutto lei, palla al centro! Arriva la zampata di Patri, 2-1, l'orgoglio del Barcellona, le geometrie che tornano, il vano surrato dalla numero 12, si aspettava la risposta, tre minuti nel secondo tempo, 2-1! Bommati, Bommati, Bommati in campo, e 3-2, Finta, Silvancino, cross, Bommati, Bommati! Ma che finale è? Ma che finale è? 5 minuti, 2 gol del Barcellona, doppietta di Bommati, pazzesco Dengomen, si è accesa la luce! Dottor Horde, apre per Payor, in area di rigore, la vuole portare sul testo, Payor! Payor, Payor! Pagnius! Pagnius, per la seconda volta, usa le mani! E subito, verso Marione, questo pallone, che non riesce però a gestire, poi sì, dribbling, ripalla, Marione liscia, dopo la vesta di Rolfo! Un disastro, lì dietro il Wolfsburg, punisce Lex, punisce Rolfo, e il Barcellona, la ripalta totalmente, remontata, completata, a Vendovene, 3-2! Eccola, la brasiliana, sollecitata, fresca, gamba, va via, la grande con Hendrick, Cagalmonita, scarico, Bommati! Fuori centrale, Frox! E arriva il momento! Fuori Bommati! Dentro Alexia Putegas! Le speranze del Wolfsburg! Infatti non c'è più tempo, basta così per Forster! A Vendoven, nella città della luce, splende e trionfa il Barcellona, che ha visto l'inferno, ma poi è riemerso! Stavolta non ci sono dubbi, le regine d'Europa sono loro! E arriva il momento in cui il presidente UEFA, Ceferin, consegna la Coppa ad Alexia Putegas. E questa riduzione non l'ha praticamente mai giocata, ma è lei il capitano! Pallone d'oro in carica! È pronta! E la riberza! Il Barcellona è campione d'Europa! Allora! 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 Grazie a tutti